Grazie a tutti L'ha munito perché era un fallo nettissimo Forse ha rischiato addirittura di essere spulso Ha rischiato addirittura di essere spulso E vai Andiamo male Non capisco perché protestano Carlo Fai col peperoncino E vai È stato bravissimo Gargano Straordinario Pallone per Denis Denis si è liberato del portiere Sorrentino lo ha messo giù Calcio di rigore inescepibile Bravo Bergozzi Traffendiamo Carlo anche i parenti di Bergozzi Non sarà attaccato per questa concezione No 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 È nettissimo Mazzari ha protestato però per il quarto uomo Perché questo è un fallo che poteva portare Anche l'espulsione il portiere Vai Marek Vai Marek Minuto di gioco 6 e 30 secondi Settimo minuto Marek contro Sorrentino E qua Facciamo funzionare un po' Sono innamorato Il nostro grande amuleto Sono innamorato Sono innamorato Siamo pronti Il pubblico del San Paolo accompagna Marek Hamsik Sono innamorato Sono innamorato Sono innamorato Sono innamorato Andiamo 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 A music 1-0 Fai avanti così Forza 1-0 Settimo minuto di gioco a fuori grotta Vi voglio così Vi voglio così Belli carichi Belli carichi 1-0 Marek chiaro Ottavo gol E' una bella azione In bellezza In velocità In grinta E poi c'è stata questa Vai Amst Sì Ha spiazzato il portiere Diciamolo Va bene La ripartenza di Gargano E' stata eccezionale E' eccezionale Allora eccole qua Eccole qua Allora tagliamo Tagliamo la prima fettina Di pandoro veronese Argento Tagliamo una fettina Di pandoro La prima fettina Mangiammi la prima fettina Di pandoro Taglia le piccole Perché non darsi Che ce le stanno tante Stasera